Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi andiamo a vedere un gioco che non è un indie. Non è neanche pienamente un AAA per certi aspetti perché è un gioco che è abbastanza di nicchia ed è Metro Last Light. Metro Last Light che non è neanche il primo della serie dei Metro ma è il secondo perché prima c'è Metro 2033 e poi Metro Last Light e poi l'ultimissimo che è anche abbastanza diverso Metro Exodus uscito prima su Steam e poi su Epic Store, gioco che io comprerò. Per chi ho voluto farvi un video su questo, portare via spazio ad altri indie, beh prima di tutto perché al momento sono sempre alla ricerca di nuovi indie. La seconda cosa è che, uh, 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 cosa ho trovato, è quello che cercavo, non l'ho fatto completamente a caso, quindi insomma siamo davanti a una cosa assolutamente imprevista perché ogni tanto ci sono delle cazzina breve, vi spiegherò anche in che cosa consiste il gioco. Ho voluto fare questo gioco perché è uno di quei pochi esempi, di quei pochi casi che mi siano mai capitati nella vita in cui io compro un gioco, magari ne compro anche la versione Redux, che è la versione quella un po' più bella, e poi li lascio lì e non li gioco, li gioco tipo 80 minuti e poi non li gioco più. E dopo anni e anni li riprendo in mano e mi piacciono. Perché mi piace? Io non sono stato un grande fan di Stalker, un gran gioco open world uscito anni e anni fa sull'epoca post-atomica, insomma. Qua siamo dopo un'apocalisse, non vi spoilerò nulla ma vi dico che la storia dell'uno è molto bella ed è su binari, nel senso che voi camminate, fate, avete delle azioni stealth, proseguite, prendete nuove armi, lo fate anche qui. Io adesso qui ho una pistola silenziata per affrontare stealth, cosa che al momento, fino adesso, ho preferito non fare perché mi piaceva proprio sparare e mi aiutava un po' a sfogarmi. E poi abbiamo il fucile, allora io adesso però ho levato, vabbè, intanto nell'orologio, che vedete lì in basso all'impugnatura del fucile, vedete che ho una lancetta arancione oltre all'ora, la lancetta arancione parte da destra e arriva a zero, a zero, quando finisce dobbiamo cambiare il filtro, cosa che sto per fare ora. Perché è successo qualcosa, io non vi spoilerò nulla, tutti vivono nella metropolitana di Mosca, che è enorme, è una roba immensa, e quando si esce in superficie si deve mettere la maschera. Allora, intanto io sostituisco l'arma, che mi ha preso, intanto ho già un fucile a pompa, ogni fucile usa un proiettile diverso, vedete questa usa proiettili normali, se vado sulla pistola, ah usa proiettili anche quello di... no, ok no, dice proiettili, vedete col simbolo del tamburo. Questo usa pallettoni e questo usa i proiettili normali. Tra l'altro, tenendo premuto il tasto R per il cambio, non lo faccio adesso, si possono dare, quelli che vedete in alto a destra, sono i proiettili preziosi, militari, che è anche la moneta di scambio, perché nei villaggi potete montare le mod, vedete che sono evidenziate di giallo. Potete, se siete in emergenza, prendere quei proiettili che sono proprio moneta, inserirli nell'arma e sparare. Quindi fate fuori i soldi, però vi salvate mai la pelle. Il gioco è composto di autosave ed è completamente doppiato in italiano, sia Last Light che l'1, il Metro 2033. Carriature, storia che prende, ottima musica, ottimi compagni, ci saranno tanti colpi di scena, io adesso me ne sto vivendo altri qui in Last Light. Il primo l'ho finito in circa, a difficoltà normale, a circa 10 ore. Ok, adesso è un delitto raccontarvi una qualsiasi cosa, vi dico solo che il gioco può piacervi se siete fan magari di cose post-apocalittiche, sparatutto. Io non disdegno ne uno ne l'altro, però non sono dei fan, non sono uno tra i fan, soprattutto della serie. Inizialmente giocando mi è piaciuto, perché ogni tanto credo bisogna staccare anche un po' da quello che è, che so, il survival, piuttosto che il... Il gioco del ruolo, il gestionale, il manageriale, e fare qualcosa di più scorrevole. Che non è un lato negativo, perché alla fine vi godete una storia, come leggere un libro, di questo tra l'altro, di Metro 2033, quindi il primo capitolo. Esiste anche un libro che si trova anche gratuitamente, mentre... e poi anche di questo gioco. C'è anche Metro 2034 e Metro 2035, che sono i libri dell'autore russo, adesso non ricordo il nome, in realtà ce l'ho in mente ma rischio di sbagliarlo. I giochi invece... oh, ho avuto un flash, spero non vi spoglieravi nulla, anche se in realtà quello che ho visto, mi pare di aver visto nel flash, non mi ha detto nulla. Ho incontrato sto tizio, adesso non so se sia affidabile o meno, ma un bel po' che giriamo, mi ha salvato la pelle un paio di volte, io l'ho salvata lui, quindi credo ci sia anche un'unesta amicizia, spero che finisca tutto bene e lui se ne vada per la sua strada e non muoia. E l'ho appena detto le ultime parole famose, che magari adesso mi muore davanti. Ah, le vede anche lui, ok. No, nei link che trovate qua sotto, Instant Gaming, aiutate il canale, acquistando da lì, ma soprattutto trovate questi giochi a una cifra esigua. Questo gioco, il 2, ieri ho finito Metro 2033, oggi sto giocando Metro Last Light, l'ho comprato a 7 euro, l'1 l'ho trovato anche meno. Ho comprato l'Area Dax, che è una versione rivista, in pratica con alcune modifiche, alcuni miglioramenti grafici. Graficamente è carino, non è all'avanguardia, ma uso le foto dei morti dell'aereo, ok. Ho visto una foto di gruppo, tutti seduti. Ok. Ma ogni tanto poi il gioco vi porta via in alcune zone, cioè vi dice, vi fa vedere che ci sono delle stanze, ma la strada è un'altra. Andate lì e ci sono oggetti in più. Non è profondissimo a livello di oggetti, diamo, ce ne sono tante, le modifiche sono tante, però alla fine è una. Andiamo avanti, seguiamo la storia, seguiamo i dialoghi. Uh, colpo di scena, bello. Uh, vediamo che cosa è successo nel mondo. Esploriamo, uh, dobbiamo attraversare per fare questo viaggio. È proprio il bello del vivere il viaggio, ed è la cosa che io ho apprezzato di più, che mi mancava onestamente. Adesso questo è un aereo che è caduto in centro alla città dove ci troviamo. Finale dell'uno che a me è piaciuto, è stato carino. Quindi se vuoi confortarvi a me è piaciuto, dieci ore. Magari non lasciando neanche tanto, io odio le morte frustranti, ma non mi è capitato. Qualche volta, ma bastava solo ascoltare. Ogni tanto troviamo col tasto queste cose qui, premendo tab, possiamo andare a leggere. Poi non voglio, non voglio spoilerarvi nulla. Adesso, nel 2 in questo gioco sono 31 capitoli abbastanza brevi, mentre nell'1 sono 7 abbastanza lunghi. Una decina di ore comunque. Ah, lui è ancora illuso da quello che sta succedendo. Ah, c'è degli effetti strani questo aereo. Poi si può colpire, a mano. E tenendo premuto tab, si può scegliere un'arma da lancio che possono essere bombe, possono mettere claymore, bombe incendiarie, e vale varia. Ah, tra l'altro, dimenticato di dirvi che i proiettili che usate, quelli per la valuta, inseriti nella pistola, sono incendiari, quindi fanno molto male. Eh, il gioco mi sta dicendo di sostituire un filtro. I filtri, bene o male, io ho giocato la valuta sopravvivenza, non ce ne sono tantissime, però li avete sempre. A parte nel finale dell'1 che ho avuto dei problemi, ho dovuto proprio cercarli. Poi se cercate di trovare. E poi ho iniziato anche a farvi una cultura su quelli che sono i mostri, quali sono i più temibili, come ucciderli. E proprio ce ne sono alcuni che hanno proprio dei metodi precisi, o non vanno mai guardati, o vanno guardati in determinate circostanze. È molto soft, è una sfida via molto... Oh, molto, molto scorrevole. Quindi il gioco mi è piaciuto perché è stato proprio come vivere un'avventura lineare. Poi non vedo l'ora perché questo l'ho iniziato dopo l'1 appunto e c'è stato un minimo miglioramento grafico. Io non vedo l'ora di iniziare l'Exodus, nuovo, perché appare meraviglioso a livello grafico e soprattutto si potrà giocare più in open world. Mentre un'area, ad esempio, in questo gioco la più grande è 200 metri per cento. La più grande in Exodus ho visto che potrebbe essere 2 km per 2 km. E soprattutto... Ah, ma è finito, cambia... Ok, seguimi, ti seguo, ma... Sì. Dove andiamo? E soprattutto il viaggio durerà una sorta di anno da quello che ho visto e si passeranno un po' tutte le stagioni. Quindi... Sì, seguimi, ma dove? Sì, ah, dobbiamo abbattere il tizio. No, ogni tanto... O quando vi dicono seguimi, ma poi non mi seguono. Allora, diamo un'occhiata intorno intanto. No, infatti, ok, è andato avanti, si è fatto i fatti suoi. Sì, dovete stargli proprio vicino. Quindi non vedo l'ora neanche di giocare il terzo. Volevo iniziare direttamente dal terzo, ma ho visto proprio in internet che lo sconsigliavano. Allora ho iniziato a giocare l'1 o l'2. Divorato. Proprio meno di una settimana, perché alla fine di 10 ore... Cambia, cambia, cambia. Che poi... Adesso non so se può capitare anche qua, ma nell'1 non capita. Forse qua, sicuramente nell'Exodus, si inceppano le armi. Se non si tengono bene. E' proprio figo. Queste sono le creature che proprio incontrerete già sin dall'inizio. Le potete anche mirare. Eh no, si è inceppata anche qui. Sì, sì, sì. Sì, infatti mi piacerebbe l'idea di trovare appena possibile un mitra di quelli militari, non questi un po' rudimentali. Ok. Vedete, stiamo... Sì, dai. Andiamo, 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 andiamo. Oh, siamo arrivati a destinazione. L'obiettivo di... Ah, qua c'è la fusoliere dell'aereo. Beh, beh, dietro di me. Poi, comunque, volendoli potrebbe uccidere tutti lui. Dovremmo correre come dei matti, quindi non ci conviene, spariamo. Abbiamo solo cinque colpi, quindi adesso direi che di prendere la doppietta. Sì, sì. E' proprio coinvolgente, vedete anche il modo in cui vi chiamano, il modo... nell'una entrata in un certo punto in una base sotterranea segretta, è bellissimo, veramente. Poi scoprirete anche la presenza di... come lo è stato anche in The Walking Dead, in pratica in quel... in quella medikit, con la Q, in quei... in quelle trame, diciamo, post-apocalittiche, post-atomiche, la... costituzione di... fazioni, di nuove forme di governo, insomma. Ok, sperando che... questi tizi qui siano amichevoli. Perché potrebbe darsi che non lo siano. Comunque, ragazzi, io vi lascio qua nel dubbio, ora che ci siamo salvati, non so se loro siano affidabili o meno. Vi saluto, ditemi che cosa ne pensate di questo gioco, ora che finisce il capitolo e ne inizia uno successivo, con la descrizione del nostro personaggio che parla. vi ringrazio e fatemi sapere, appunto, come dicevo, cosa ne pensate di questo, diciamo, triple A che ho riscoperto e ho gustato. Alla prossima, ragazzi, e ciao, ciao. Non c'è altro modo per sopravvivere alla desolazione della superficie.